Si è chiusa la telenovela Emre Can alla Juventus. Il tedesco è ufficialmente un giocatore bianconero e vestirà la maglia numero 23. 16 milioni di oneri accessori per la vecchia signora e contratto fino al 2022 per l'ex Liverpool. Mirante alla Roma e Skorupski al Bologna. Il Napoli e la Fiorentina sempre alla ricerca del nuovo portiere e Allison, ancora in bilico per i giallorossi. Prosegue il waltzer degli estremi difensori, giorni decisivi per i club di Serie A che devono sistemare la porta. Nainggolan ha un passo dall'Inter ma i nerazzurri pensano anche ad altro. Sondaggio con il Milan per Suso, Piace Zappacosta e Vesino potrebbe andare al Chelsea. Ausilio al lavoro per rinforzare la Rosa. Buonasera e ben ritrovati al TMW News. Avete sentito dai nostri titoli tanti temi caldi per quel che riguarda il calciomercato. Ne parleremo qui in studio con Raimondo Magistri. Ciao Raimondo. Ciao Lorenzo, buonasera. Prima notizia ufficiale. Emre Can è un giocatore della Juventus. Ha firmato fino al 2022. Vestirà la maglia numero 23. Andando a leggere il comunicato della Juventus, il club bianconero dovrà pagare 16 milioni di euro di oneri accessori. Che cosa sono e come li dobbiamo valutare? Beh, è comunque una spesa, mettiamola così, per il cartellino di Emre Can, che era forse il miglior svincolato in giro per l'Europa. E quindi la Juventus ha dovuto garantire un bonus importante all'entourage del giocatore che poi l'ha portato a Torino. E probabilmente in quei 16 milioni c'è anche un importante bonus alla firma per lo stesso Emre Can, che è comunque sottoscritto a un contratto importante, quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione, guadagnerà qualcosa anche al momento della sottoscrizione del contratto che è avvenuto nella giornata di oggi. A 16 milioni resta comunque un grande acquisto, perché è un giocatore ancora relativamente giovane, nel pieno della sua maturità calcistica e all'altezza dei titolari della Juventus. Quindi è un calciatore che può fare sicuramente la differenza. Certo, non si può parlare di cartellino a parametro zero, perché comunque 16 milioni di euro sono stati spesi per portarlo a Torino, ma resta un acquisto ottimo per questa Juventus, il secondo ufficiale dopo l'arrivo di Mattia Perenne. Prima di leggere il comunicato e di capire che ci fossero comunque questi 16 milioni di euro, facevamo, Raimondo in redazione a Tutto Mercato Web, la lista dei giocatori arrivati alla Juventus a parametro zero e si può stilare un 11 addirittura. Sì, si può stilare un 11 da quando sono arrivati Marotta, Paratici, dalla gestione Agnelli, insomma questa Juventus è sempre stata molto attenta ai parametri zero, in questo senso attenzione anche a Jack Wiltshire, giocatore che è in scadenza con l'Arsenal, che ha annunciato che non rinnoverà con i Gunners, ha tantissime offerte dalla Premier, ma sappiamo che in Italia piace anche alla Juventus. Pogba più clamorosa probabilmente, ma anche lì quando poi fu rivenduto a cifre altissime al Manchester United, di oltre 100 milioni di euro, un circa 20% andò a Raiola, che si tenne per sé parte del cartellino del centrocampista francese. Ne sono arrivati davvero tanti, penso a Neto, strappato a parametro zero alla Fiorentina e poi rivenduto al Valencia. In difesa Barzaghi non è arrivato a parametro zero nel 2011, ma poco ci mancò, 300 mila euro di indennizzo al Wolfsburg, sicuramente è stato pagato meno, molto meno, ad esempio di Embrescian. Lucio forse non è andato benissimo, è appena attacco a Llorente, che ha fatto due anni molto molto buoni, Coman, giocatore poi rivenduto al Bayern Monaco a suona di milioni, Luca Toni, così così. Insomma la Juventus si è mostrata sempre molto attenta ai parametri zero in questi anni, hanno fatto anche loro a loro modo la differenza in questo ciclo vincente. Non sarà un parametro zero, ma la Juventus proverà a comprare Golovin dal CSKA Mosca e proprio del giocatore che sta facendo molto bene ai mondiali, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca ed ex juventino. Sì, io l'ho visto dal vivo, proprio sul campo, ho giocato l'occasione quattro volte, quindi poi altre partite che ha giocato sono rimaste interessanti a più, perché mi chiedevo come faceva a giocare a Corriere russi a un giocatore così, perché è giovanissimo, nonostante la sua età, ha tre anni che è in giro la prima squadra, quindi esperienza anche di Champions League, Europa League, ed è forte, può crescere ancora, è praticamente valido anche il passaggio, l'assist, corre, quindi è un buon giocatore. Però siccome si è parlato di lui in ottica Juventus, io volevo chiedere, lei che conosce comunque benissimo la Juventus, mister, in che ruolo lo vedrebbe o comunque eventualmente al posto di chi, permesso che comunque, conoscendo anche Allegri, non è che arriverebbe e farebbe il titolare, però in che schieramento tattico lo vedrebbe bene nella Juventus? Ma poi dipende da come giocare la Juventus, questo lo chiedo da Allegri, però lui può fare l'interno di centro campo e anche l'esterno volendo, e poi ha una vista mondiale che può fare anche il trequartista dietro la punta, quindi è un po' un tutto fare, ecco. Potrebbe essere di sbraccio l'incidimento del CS perché essendo Abramovic il protettorio russo può avere una corsia di preferenza con i russi. Così dunque Massimo Carrera che Raimondo ha avvertito la Juventus, il Chelsea se davvero si dovesse fare avanti per Golovin sarebbe un bel problema perché Abramovic ha un canale preferenziale con il CSKA. Sì, senza dubbio, e poi da parte del Chelsea c'è anche questo mondiale in Russia che lo sta mettendo particolarmente in vetrina, oggetto del contendere non solo del Chelsea e della Juventus, ma penso ad esempio anche al Barcellona. Però la Juventus ha un piccolo vantaggio, cioè che ha quadri dirigenziali tecnici già ben definiti, mentre il Chelsea deve ancora ufficializzare l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Maurizio Sade, che arriverà al Chelsea. Però insomma ancora non sono stati limati tutti i dettagli e non so onestamente se Golovin possa essere il primo indiziato nel Chelsea di Maurizio Sarri. Sappiamo che Sarri è molto legato ad alcuni suoi fedelissimi, come Raul Albioli in difesa, soprattutto come Gonzalo Higuain in attacco. In questo senso attenzione a un possibile scambio in futura Higuain Morata, quindi non credo onestamente che la prima richiesta di Sarri possa essere Golovin, ecco perché la Juventus sta provando a stringere per questo calciatore, le parti non sono poi così distanti, perché il Sesca Mosca chiede 25 milioni di euro, la Juventus è disposta ad offrirne 20 bonus compresi, quindi ci siamo quasi, anche perché con il giocatore c'è l'accordo sulla base di un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione, vedremo come giustamente ha sottolineato Carrera, che l'ha visto più volte dal vivo, è un giocatore che può ricoprire più ruoli al centrocampo e sappiamo quanto piacciono a giocatori polivalenti a un mister come Max Allegri. Cambiamo adesso argomento e andiamo a parlare di quello che è il waltzer dei portieri, Antonio Mirante ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi per la Roma, Skorupski farà il percorso inverso dalla Roma, andrà al Bologna, in tutto questo Raimondo dobbiamo sempre registrare Napoli e Fiorentina che non hanno ancora il loro portiere, Alex Meret rischia di diventare la nuova telenovela, e insomma però il tempo comincia a stringere per i viole e per gli azzurri. Sì, aggiungo anche la Roma in tutto questo, perché Mirante arriva, è arrivato oggi, visite mediche, però sarà il numero 12 della Roma che deve innanzitutto sciogliere il nodo Allison, il Real Madrid non sembra più così convinto di spendere 80 milioni di euro, o meglio, quella cifra non è mai arrivato, il Real è arrivato ad offrire 60 milioni di euro, bonus compresi, quindi un'offerta di parte fissa di circa 50 milioni di euro, ci aspettavamo dei rilanci che però negli ultimi giorni Lorenzo non sono arrivati, e quindi la trattativa in questo momento è una fase di stand-by. Va avanti invece la trattativa della Roma con il Paris Saint-Germain per Ariola, perché è un portiere che piace molto, la Roma, ricordiamolo, col Paris Saint-Germain ha appena chiuso l'arrivo all'acquisto di Avie Pastore, Ariola è un portiere che piace molto anche al Napoli. Ha una valutazione piuttosto alta, 35 milioni di euro, per un portiere classe 93, giovane, ma che ha un contratto in scadenza tra un anno non sono pochi, e soprattutto Ariola chiede 3 milioni e mezzo netti a stagione, quindi anche un ingaggio piuttosto pesante. Ecco perché il Napoli non ha chiuso, né la Roma ha chiuso, però stanno facendo delle riflessioni su Ariola e su Meretta, altro giocatore che forse è un po' a sorpresa alla stessa valutazione di mercato, perché pensavamo potesse andare via da Udine per molto meno, invece l'Udinese lo considera incedibile, nonostante una stagione alla spalla piuttosto difficoltosa a causa di un infortunio, e quindi servirà un'offerta fuori mercato. Appunto da 35 milioni di euro ci ha provato la Fiorentina, con scarso successo perché è arrivata a offrire circa 20 milioni di euro, forse anche qualcosa in più se aggiungiamo il cartolino di Saponara, ma l'Udinese ha detto no, vedremo se il Napoli e la Roma contenteranno. L'Udinese di certo De Laurenti sa in Meretta la sua prima scelta, più di Ancelotti perché vede in Meretta un portiere di prospettiva che oggi vale tanto, forse tantissimo, 35 milioni di euro, ma che può valere ancora di più. Abbiamo nominato Javier Pastore, andiamo a sentire adesso Max Tonetto, ex giocatore della Roma, intervistato dal nostro Lorenzo Marucci, proprio sul nuovo arrivo in Casa Giallorossa e sul panorama mercato in Casa Capitolina. Partiamo dalla Roma che è una delle tue ex squadre con la quale hai giocato abbastanza, diciamo così, dal 2006 al 2010. Che effetto ti fa la cessione sempre più probabile di Nainggolan all'Inter? Beh, devo dire che rispetto ai mercati scorsi ci sono, mi sembra, le idee molto chiare, anche se è vero che si sta parlando di cessioni importanti, però anche in entrata la società si sta muovendo, credo secondo indicazioni sia del direttore sportivo che dell'allenatore che mi sembra lavorino molto bene in simbiosi. Tra l'altro abbiamo delle società più attive fino a questo momento sul mercato perché in entrata sono stati messi a segno colpi molto interessanti, soprattutto giovani e poi è stato anche prolungato il contratto di Francesco a testimonianza del fatto che si crede molto in questo allenatore. Beh, lui ha lavorato molto bene, è arrivato contro un po' di scetticismo, non tanto per le qualità tecniche che erano riconosciute, aveva fatto molto bene a Sassuolo, quanto insomma per comunque un impatto con una realtà sicuramente diversa, che lui già conosceva ma che comunque poi viverla a 360 gradi al natore a Roma è sicuramente un impatto complicato. È stato molto bravo, è cresciuto nel corso dell'anno, secondo me è stato molto bravo a coinvolgere tutti i giocatori della Rosa e a ottenere un risultato importantissimo in Champions perché la semifinale credo sia stata veramente guadagnata sul campo. Perdere Alisson, cosa potrebbe voler dire per la Roma? Beh, Alisson oggi secondo me è un portiere che non puoi tenere perché ha dimostrato di avere un valore assoluto, credo tra i migliori in Europa, forse il migliore, lo si è visto anche nelle semifinali, nella finale di Champions League, insomma ci sono portieri che secondo me non sono alla sua altezza e quindi oggi trattenere Alisson, trattenerlo da delle richieste talmente importanti diventa complicato. È vero anche che con quei soldi poi però la Roma ci può fare un mercato di tutto rispetto. Pastore ti piace, soprattutto è collocabile facilmente in questa Roma? Pastore mi è sempre piaciuto, è un valore assoluto, è un giocatore di livello internazionale, ha fatto bene al Paris Saint-Germain, ha qualità indiscusse, il dubbio forse è sul ruolo, lui è in un modulo di Francesco dove comunque ai giocatori si richiede tanto sforzo fisico, tanto pressing, una squadra che gioca tutto campo, lui sicuramente si dovrà adattare dal punto di vista fisico per poi sfruttare quelle che sono le sue grandi qualità tecniche. Ci aspettiamo Raimondo, un Javier Pastore in Italia nei prossimi giorni? Sì, possibile anche già nella giornata di domani, è chiaro Villa-Stewart dove la Roma effettua le sue visite mediche è già stata allertata, insomma si stanno definendo gli ultimi cavilli burocratici, mettiamola così, ma non ci sono assolutamente i dubbi su quest'operazione, tra l'altro l'Inter nella serata di ieri ha anche chiuso l'acquisto di Nengolan, che è il giocatore che esce per far spazio a Pastore, una trattativa in cui verranno inseriti anche Zagnolo e Santon. Primi verdetti anche al Mondiale di Russia 2018 arrivati nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo continua a segnare, quarto gol in due partite per CR7, andiamo in redazione dal nostro Andrea Losapio che ci racconta le ultime su Russia 2018. Buonasera Lorenzo, primi verdetti nel gruppo A della Coppa del Mondo con la Russia che ha vinto, sì, due giorni fa contro l'Egitto, ma anche l'Uruguay che passa il turno con il gol di Suarez. Andranno a incrociare il gruppo di Spagna-Portogallo-Iran, perché? Perché il Marocco innanzitutto è stato eliminato, ha sperso anche contro il Portogallo, gol di Cristiano Ronaldo, Portogallo non proprio incisivo, come non incisiva la Spagna perché ha vinto solamente 1-0 con l'Iran, e tante le occasioni per la squadra di Keirosh che però non è riuscita a pareggiare contro i campioni del mondo del 2010. Iran che ora se la vedrà con il Portogallo nell'ultima gara, Keirosh gioca praticamente contro uno dei suoi figliocci, Cristiano Ronaldo potrebbe appunto escludere il Portogallo, sua nazione di origine dagli ottavi di finale. È chiaro però che questa partita sia abbastanza complicata per l'Iran, i quarti dovrebbero essere appunto con Uruguay, Spagna, Portogallo e Russia e a quel punto potrebbero esserci delle grosse sorprese. A voi. Cristiano Ronaldo quindi non smette di segnare, vuole essere protagonista assoluto di questo Mondiale in Russia. Ha parlato anche il direttore sportivo Antonelli, sempre ai microfoni del nostro Lorenzo Marucci, dei Mondiali e di CR7. Stefano Antonelli, parliamo per un attimo anche del Mondiale. Cristiano Ronaldo è il grande protagonista fino a questo momento della Coppa. Sì, i fatti dicono questo. Allora facciamo una cosa, io ho sempre avuto una grande curiosità del perché, fino poi alla vittoria dell'Europeo, del perché Messi e Ronaldo non avessero mai dato lo stesso segnale di trapotere calcistico con le proprie nazionali. In questo momento Cristiano sta facendo qualcosa di straordinario, anche in un momento poi delicato dal punto di vista psicologico, tutte le sue vicissitudini che ho letto sui giornali, dal punto di vista fiscale, non fiscale e quant'altro. Lui si è presentato due partite e quattro gol e in questo momento sta, così, tra virgolette, suggellando la leadership mondiale, il numero uno al mondo. Cambiamo di nuovo argomento, Raimond, andiamo a parlare dell'Inter. L'abbiamo già affrontato in minima parte l'argomento relativo al mercato dei nerazzurri che si muovono su più fronti. Nainggolan quasi chiuso, però c'è anche l'interessamento per Suso, che ha una clausola però non valida per l'Italia e poi piace anche Zappacosta. Sì, è un Inter che sta davvero rivoluzionando la sua rosa perché, ricordiamolo, prima dell'arrivo di Nainggolan, l'abbiamo detto, trattativa praticamente definita. Ora, se l'ufficialità non sarà domani, sarà sicuramente i primi giorni della prossima settimana. Aveva già ingaggiato De Frey a parametro zero ed era il miglior parametro zero della Serie A. Asamoah, che comunque ha fatto bene alla Juventus negli ultimi anni, sempre a parametro zero. è Lautaro Martinez, uno dei migliori attaccanti d'Argentina. Però questa è una squadra destinata a cambiare ancora perché tu giustamente hai sottolineato di Suso, Alessandro Lucci, il suo procuratore, l'ha proposto di fatto all'Inter negli ultimi giorni, non è una trattativa semplice, non è nemmeno una priorità di questi Inter, però è sicuramente una possibilità. Ma Lucci è anche il procuratore di Vesino che sta trattando il rinnovo, ma piace molto anche al Chelsea. E qui Maurizio Sarri, è vero, è reale l'interesse, potrebbe andare via, potrebbe andare al Chelsea per 30 milioni di euro o in una trattativa che comprenderebbe anche Davide Zappacosta, che nelle idee di ausilio andrebbe a sostituire Joao Cancelo, di fatto nuovo terzino della Juventus, anche qui la Juventus ha speso quasi 40 milioni di euro per il portoghese. A centrocampo, al posto di Vesino, potrebbe arrivare Moussa Dembélé del Tottenham, contratto 2019, reduce da una stagione straordinaria. Londra ha fatto benissimo in Premier League, vuole andare via e c'è l'Inter che sta facendo di fatto da competitor all'importante offerta cinese. Quindi è un Inter che si sta rivoluzionando tanto, molto, e anche meglio, perché questa è una squadra che davvero a ausilio sta rinforzando in maniera importante. Proprio di Dembélé e del mercato dei Nerazzurri ha parlato lo stesso Stefano Antonelli, direttore sportivo, sempre ai microfoni del nostro Lorenzo Marucci. Capitolo mercato, l'Inter fa sul serio, preso anche Nainggolan, con questo giocatore quanto si alza il livello tecnico e di personalità della squadra e quanto l'Inter può puntare ancora più in alto rispetto all'anno scorso? Io dico che questa cosa fa bene a tutti e due, fa bene all'Inter, fa bene a Nainggolan e diciamocela tutta, fa bene anche la Roma. La Roma ha bisogno di far cassa, si dice così, no? Di far cassa, ha bisogno di far cassa, sta facendo una grande squadra dal punto di vista della prospettiva con tutti i talenti importanti. Nainggolan a Roma ha dato tanto, tantissimo. Per un concetto anche ambientale, secondo me, andare a Milano per lui è importante, perché comunque c'è un nuovo... Cioè, si riossigena un po' tutto il sistema. Spalletti sa perfettamente dove metterlo e cosa gli può dare. Per me è un'operazione di un'intelligenza incredibile dal punto di vista generale. Inter, calciatore, Roma. L'Inter, a tuo parere, può puntare, può arrivare anche ad un giocatore come Dembélé, di cui si parla molto in questi giorni? Allora, io dico per quello che so io. Poi sarò smentito sicuramente dai fatti. Dembélé non ha nella sua testa come priorità l'Italia. Non l'Inter, non la Juventus, non la Roma o il Napoli. Al momento la sua priorità non è l'Italia. Al momento ancora ha la testa sulla Premier. E ho parlato col suo entourage. Al momento è così. Poi sai il mercato come funziona. Poi se capita che non arriva l'occasione giusta che lui desidera dalla Premier probabilmente se sarà così ben lusingato da proposte di Inter o chi che sia magari arriverà in Italia. Al momento lui ancora predilige la Premier. Staremo dunque a vedere quali saranno i prossimi colpi di mercato dei club di Serie A. Lo ricordiamo ancora una volta che la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Emre Can. Grazie a Raimondo e Magistris. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.